In questo tutorial vediamo cosa sono le matrici. Una matrice è una tabella in cui sono riportati in modo ordinato gli elementi di un dato insieme, che generalmente sono numeri, però potrebbero essere anche altri enti matematici come vettori e funzioni. È consuetudine indicare le matrici con le lettere maiuscole dell'alfabeto, matrice A, matrice B, matrice C e così via. Diamo ora una definizione formale di matrice. Dati m per n numeri chiamiamo matrice m per n la tabella che li ordina in m righe e n colonne. Vediamo subito un esempio. Consideriamo A, 0, 1, meno 3, 1, meno 2, 0. A risulta essere una matrice che ha due righe, prima riga e seconda riga, e tre colonne, prima colonna, seconda colonna, terza colonna. Gli m per n numeri presenti nella matrice sono gli elementi della matrice. Se il numero delle righe è diverso da quello delle colonne, la matrice si dice matrice rettangolare, altrimenti risulta essere una matrice quadrata. Vediamo questo esempio. La matrice B risulta essere una matrice quadrata, in quanto il numero delle righe, prima riga, seconda riga, coincide con quello delle colonne, prima colonna, seconda colonna. C risulta essere un esempio di matrice rettangolare. Tale matrice ha due righe, prima riga e seconda riga, e ha invece quattro colonne, prima colonna, seconda colonna, terza colonna, quarta colonna. Gli elementi di una matrice generica A di m righe ed n colonne sono indicati con una lettera minuscola, ad esempio la A, avente due indici I e J, quindi un generico elemento di una matrice lo indichiamo con IJ. Il primo indice I rappresenta il numero di riga dell'elemento, il secondo indice J rappresenta il numero di colonna. Vediamo un esempio. Consideriamo la matrice che ha due righe e tre colonne, avente gli elementi 0, 1, meno 3, 1, meno 2, 0. Supponiamo di voler determinare l'elemento A12. Tale elemento corrisponde al numero che si trova nella prima riga, e allora evidenziamo la prima riga, e si trova nella seconda colonna, ed evidenziamo la seconda colonna, e allora l'elemento che si trova nella prima riga e nella seconda colonna risulta essere 1, e quindi possiamo scrivere che A12 è uguale a 1. Date due matrici A e B vengono dette dello stesso tipo quando hanno lo stesso numero di M righe ed N colonne, ossia le due matrici hanno la stessa dimensione. Gli elementi di due matrici dello stesso tipo che occupano lo stesso posto si dicono elementi corrispondenti. Osserviamo che due matrici dello stesso tipo sono uguali se tutti gli elementi corrispondenti sono uguali. Due matrici dello stesso tipo si dicono opposte se gli elementi corrispondenti sono opposti. Vediamo un esempio. Abbiamo la matrice A e la matrice B. La matrice A ha due righe e tre colonne. Anche la matrice B ha due righe e tre colonne, e allora si dicono matrici dello stesso tipo. Vediamo ora una serie di matrici particolari e iniziamo dalla matrice nulla. Una matrice nulla è una matrice dove tutti i suoi elementi sono uguali a zero e la matrice nulla generalmente si indica con O. Di seguito abbiamo fatto tre esempi di matrice nulla. Vediamo un'altra matrice particolare che chiamiamo matrice riga. È una matrice che risulta essere formata da una sola riga. Qui abbiamo fatto un esempio. La matrice A ha solo una riga, ecco perché la chiamiamo matrice riga. In maniera del tutto analoga definiamo la matrice colonna una matrice formata da una sola colonna. Qui la matrice B risulta avere uno, due e tre righe, ma una sola colonna. Un altro esempio di matrice particolare è la matrice quadrata. È una matrice avente il numero di righe uguale al numero di colonne. Ad esempio la matrice C, 1, 3, 8, meno 2, è una matrice quadrata 2x2 perché ha due righe e due colonne. Nella matrice quadrata la diagonale principale è formata da tutti gli elementi che si trovano sulla diagonale di estremi A, 1, 1, A, M, N. Consideriamo la matrice A che risulta avere M righe e risulta avere N colonne. È una matrice M per N. La diagonale principale di A è costituita da tutti gli elementi che si trovano su questa diagonale. La diagonale secondaria è formata da tutti gli elementi che si trovano sulla diagonale di estremi A, M, 1, A, 1, N. La diagonale secondaria è costituita da questi elementi. Definiamo matrice diagonale una matrice quadrata avente elementi diversi da zero solo sulla diagonale principale. Qui abbiamo fatto un esempio. La matrice D risulta essere una matrice diagonale perché è una matrice quadrata e gli unici elementi diversi da zero sono quelli presenti sulla diagonale principale. Una matrice identità è una matrice diagonale aventi tutti uno sulla diagonale principale e generalmente si indica con I. Questa matrice e questa matrice sono due matrici identità. Entrambe sono matrici quadrate, la prima di dimensione 3, la seconda di dimensione 2, infatti ha due righe e due colonne e sia in questo caso che in questo caso sulla diagonale principale sono presenti tutti uno e altrove, ossia qui e qui, sono presenti tutti zero. Una matrice triangolare superiore è una matrice quadrata avente tutti gli elementi al di sotto della diagonale principale uguali a zero. F risulta essere una matrice quadrata dove gli elementi al di sotto della diagonale principale, e risultano essere questi, sono tutti zero e si definisce matrice triangolare superiore. In maniera del tutto analoga definiamo la matrice triangolare inferiore. È una matrice quadrata avente tutti gli elementi al di sopra della diagonale principale uguali a zero. G risulta essere una matrice quadrata dove gli elementi che si trovano al di sopra della diagonale principale, ossia questi tre elementi, sono uguali a zero e allora G risulta essere una matrice triangolare inferiore. Vediamo infine questi ultimi casi, definiamo matrice simmetrica una matrice quadrata dove gli elementi sono simmetrici rispetto alla diagonale principale. La matrice H è una matrice quadrata e H risulta essere una matrice simmetrica. Rispetto alla diagonale principale questo elemento è uguale a questo elemento, questo elemento è uguale a questo elemento e questo elemento è uguale a questo elemento. In maniera analoga definiamo la matrice antisimmetrica. È una matrice quadrata dove gli elementi sono antisimmetrici rispetto alla diagonale principale. Consideriamo la matrice L, risulta essere una matrice quadrata. Rispetto alla diagonale principale questo elemento è opposto di questo elemento, questo elemento è opposto di questo elemento e questo elemento è opposto di questo elemento. Facciamo infine un'ultima osservazione. I numeri reali possono essere pensati come delle matrici uno per uno. In simboli possiamo scrivere A uguale 1 1, ossia una matrice composta da un unico elemento. E con questo termino il tutorial su cosa sono le matrici.